Visetto veloce, più o meno Prima di tutto, grazie Singhi e Franci per avermi dato il permesso di aprire una confrontation Poi a proposito della confrontation, mi servono 8 persone che appagliano con me Sempre nella confrontation Perché 8 persone? Non spoilerò nulla Allora, intanto vi devo dire che voglio fare una sorpresa, per così dire A Celestia Un, cioè mia cugina Che non guarderà mai questo video, ecco perché lo dico Non guarderà mai i miei video perché è pigra, ma è una roba assurda Quindi, la aggiungerò e gli faccio fare quel ruolo soltanto perché ricordo Altrimenti non gliel'avrei fatto fare Vabbè, vedrete E preparatevi alla cosa più epica del mondo Che non supererà mai le altre, che ne so, non supererà mai Quella di Singhi Che sono rimasta delusa Cioè, non da Singhi Ma, cioè, non è finito in tendenza Non ho capito, cioè, perché doveva... doveva... Perché non è... non è... non è... non è arrivata prima in tendenza Cioè, non ha senso Perché non mettere prima in tendenza un capolavoro del genere Cioè, io... comunque, quando uscirà anche quella di... Quando usciranno anche quelle di... Tridash E Franci La mia non sarà mai all'altezza di quella... di... quelle... di Franci, Singalek e Tridash Tridash Perché Tridash? Comunque, non saranno mai all'altezza delle loro Mi dispiace Ok, basta parlare di cose a caso Allora, creerò un gruppo su Hangout Che... praticamente Chi partecipa mi deve mandare O un video con Mobizen dove... Allora, io scriverò delle parti Mi deve mandare O un video con Mobizen E loro... non c'è... non c'è bisogno che le leggono, eh Non c'è bisogno che le leggete Dovete semplicemente leggerle Cioè, non c'è bisogno che le studiate Dovete semplicemente leggerle Perché... cioè, che cosa stiamo facendo? Una recita scolastica? No, dovete semplicemente leggerle Mandarmi o un video con Mobizen Con un... eh... un video con Mobizen Che ne so Un video con uno sfondo nero Tanto... eh... raga Io registro... Registro dal computer Dalla cassa del computer registro Eh... quindi... non vi preoccupate Va bene, qualsiasi video Tipo, facciamo un esempio Faccio un esempio Voi come... come so fare io Con gli sfondi neri? Perché io sono... ehm... Io faccio solo video con sfondi neri Infatti questo è uno sfondo nero Sì? Beh, tipo che ne so Uno sfondo nero Così, con la... col tele... col cellulare appoggiato per terra Oppure... Con Mobizen Che fate vedere la vostra VP Che parla così Quello che volete Tanto io registro dal PC Quindi... Non c'è problema Non paga affitto Yeeey Non paga affitto Ok, basta Ragazzi Sì, non paga affitto Perfetto Non so se avete capito quello che ho detto Però cercherò di spiegarmi meglio in descrizione No, perché poi ogni volta... Niente raga Eh... otto persone mi devono scrivere Mi devono scrivere Voglio partecipare E io le aggiungerò Ciao Ciao